La sua relazione è attesa per conoscere i motivi che hanno causato la morte dell'anziano caduto da un balcone della casa di riposo a Ripalimosani agli inizi di luglio. Ora Giovanni Zotti dovrà eseguire l'autopsia sul corpo di Anna Maria Settembrini, la donna di 77 anni trovata senza vita nel suo monolocale in questa palazzina di Contradamacchie a Campobasso. Il medico legale di Salerno è atteso domani nella camera mortuaria del Cardarelli. Dall'esame il sostituto procuratore Francesco Santosuosso, che ha conferito l'incarico al patologo, aspetta le risposte che al momento sono ancora in sospeso e soprattutto chiarire cosa ha provocato quegli strani segni sul corpo dell'anziana trovata morta dalla nipote. In queste ore gli agenti della squadra mobile che svolgono le indagini hanno cominciato a sentire i familiari e i vicini di Anna Maria Settembrini. Nell'appartamento non ci sono tracce del passaggio di estranei né segni di effrazione o di una colluttazione, il che porta ad escludere una rapina finita male, oltretutto in casa. Sono stati ritrovati soldi e non mancherebbe nulla. L'intervento del medico legale tuttavia dovrà fugare ogni dubbio sulle cause della morte. La donna potrebbe aver aperto la porta ad un conoscente e per questo l'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire agli agenti della polizia scientifica di effettuare tutti i rilievi. Domani Giovanni Zotti eseguirà l'autopsia e solo dopo il quadro sarà più chiaro.